Come aumentare la nitidezza sul monitor Dell? Ovviamente per aumentare la nitidezza dietro al monitor, cliccate così il pulsante, eccolo qua, scendete, il pulsante è proprio quello grande, scendete fino a giù, fino a trovare display. Ecco display, su display, sharpness che sarebbe la nitidezza, da 0 la impostate a 100 e lo schermo poi sarà più nitido. Ecco come aumentare la nitidezza sul monitor Dell. Se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Grazie a tutti!